Tra le varie iniziative organizzate a Ravenna in occasione del 19esimo raduno nazionale dei marinai d'Italia è stata inaugurata questo pomeriggio la mostra Navi Modellismo alla Biblioteca Oriani. Madrina d'eccezione della mostra è stata la signora Giulia, moglie di Antonio Patuelli, presidente del gruppo Casa di Risparmio di Ravenna e dell'ABI. Io ho la marina militare nel cuore, mio padre è stato un ufficiale di marina, mio nonno è anche il mio bisnonno e devo dire l'hanno fatta amare molto anche a me, apprezzo quello che fanno anche se non è di solito molto pubblicizzato, molto noto e questo è un peccato perché ci sono delle persone di grandissimo valore, di grandissima preparazione. Quest'occasione di questa dieci giorni dedicata proprio alla marina con il raduno per lei è una gioia particolare. Beh sì, è una bella cosa poi soprattutto che sia Ravenna, Ravenna città di mare che a volte appare meno città di mare perché è un po' più indietro rispetto al mare, però il mare lo sente, lo ama, qui tantissima gente va in barca a vela, ama proprio il mare di estate, di inverno, quello che sia e quindi direi che sia una bellissima localizzazione.